Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa nuova puntata di Incubo a North Point, ovvero uno dei DLC per Sleeping Dogs. Il mio nome è come sempre Quit108 e mi hanno fatto notare che è uscito questo, da pochissimo è uscito questo DLC per Sleeping Dogs e ho guardato il trailer ed è una figata assurda, quindi ringrazio il ragazzo che mi ha mandato per MP il link al trailer perché abbiamo tutti bisogno di un po' più di Sleeping Dogs, no? Comunque sia, Weishen torna per la terza volta in questa chiave un po' horror giusta per Halloween, voi lo vedrete domani, io sto registrando oggi che è il 31, sono appena tornato da Londra però non volevo lasciarvi senza qualche video. Mi scuso per la voce ma i germi londinesi sono dei figli di puttana duri a morire e sto abbastanza male, però ho pensato, diamine, è uscito Incubo a North Point, registriamo. Quindi andiamo, nuova partita, non c'è un autosalvataggio di Incubo a North Point, ok. Consiglio, la reputazione non conta nulla se steguaci dell'inferno infestano le strade. LOL LOL Perché sono vestito così? Dov'è il mio cappello? È granchio Oh cavolo Oh cavolo Ma quello mi ricorda... no non può essere Corri! Dietro al tizio in fiamme Perché? Questo gioco, cioè questo DLC mi sta già piacendo Vieni qua tizio in fiamme Lo sono Ho inseguito un sacco di gente, ho fatto il parkourista Io sono Wei Shen figlio di puttana, ti sto venendo a prendere Morto o no Dio si corre il suo tizio Ehi ehi ci sono, dai Su Signorini Yes Dai vieni qua, bastardo Certo che ti posso Vieni qua, vieni qua Ti sono dietro Eh, te Ti sono... praticamente t'ho superato zio, corri un po' più in fretta Corri, 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 corri Wow Buongiorno Cavolo, granchio Ah sì Vieni qua Vieni qua Oh cavolo Yes Oh cavolo Che cavolo sono? Perché sono vestiti così soprattutto? Yes Yes Uh Ah L L L L Qual è L L? No fish feeding dead body It's gonna finish on something You got it Uh yeah Il pugno super potente Yeah Yeah Salta salta simbailar Va bene Ah Non si fa Che cavolo Vieni qua Yeah Con la forza dei pugni Weishen Di nuovo Vieni qua, bastardo Con chi stai sbar... Con chi stai parlando? Vieni qua, bastardo Vieni qua Oddio Devo salvare tutti Staccare la felicità Nice costume Oh sì Vieni qua Ho qualcosa per te Yeah Oh no Oh no Ehi Vieni qua Yeah Mori Oh Ciao Ciao Non mi attacchi Più La prima volta ero un po' spaisato Perché siete dei Cinesi strani morti Yeah No 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 Ok Ho volato per qualche motivo Ma non è importante Diamogli fuoco Ok Un po' di Zombie grigliati per noi Ah sì Bene Andiamo La mia ragazza Stronzo Yeah Ho fame Dammi dei spiedini di pollo Grazie La mia bella camicia bianca Già piena di sangue Che diavolo Oh cavolo Oh la mia ragazza Eh no eh Vieni qua Questo è un executed No non lo so È una maschera Yes Ok così Così Wey Fagli vedere il son Ogni gli stai Cavolo Il potere Il cappello di Pai Anche se non ce l'hai Ah Ah Ok Non ping Ti salverò Yes Ok Crepa Bravissimo Bastardo Ridammi non ping Allora Allora Lui è per forza Il nostro caro amico Bastardo Oh cavolo Oh cavolo Cazzo Cioè sono tutti cattivi Giù zio È diventato The walking shen È questo Oddio Dobbiamo andare al golden Coi Va bene E andiamo al golden Coi Bello che la gente Scappa Non ho capito perché Però scappano Non lo so Secondo me sono nella parte sbagliata Però va bene Cosa scappate a fare Ma Vabbè Gente con gli occhi Che luccigano Ondiavolo ci arriva il golden Coi Di qua Ehi Mio vestito Cavolo Ok Donne e bambini Non ci interessa Noi li Li uccidiamo tutti Dio che posto Orribile Cavolo Ok Parla con Vincent 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 Hey Vince Oh cavolo Sì Ah sì Ah sì Sei un genio Va bene Oddio Ho capito Oh cavolo Ok Tu chi sei Va bene Lo Yao guy Dove vai Che cavolo Yes Ah si Oh cavolo Aia Sali aia Corri Wei Corri No Wei Non è così che si fa Ok Granchio Ma veramente Te è magico E' un genio E tu pensi che sto scherzo? Bene effetti Cavolo Va bene Prendiamo una macchina Che cavolo Oddio Oddio santo Oh cavolo Allora non è No Ah cavolo Non si fa Non si morde la gente a caso E che Perché ci sono pari lì Piano ovunque Per Hong Kong In questo periodo Yeah No 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 Non mordere Mordere è da cattive persone Super pugno Yeah Farmacista Dammi del fè magico Ah si Bene Ma veramente Ah si Dell'antigelo Pfff Ah si Bene Ok ragazzi Alla prossima Troveremo il Pepe Fantasma Tutto questo non ha senso Ma è bellissimo Ringrazio ancora ragazzo Che mi ha Detto di questo DLC E niente Spero che la serie vi sia piaciuta Cioè Spero che questa nuova serie vi piaccia Anche come idea E come Eh Nel fatto che hai la faccia Per l'appunto E niente Il mio nome è come sempre Quituano8 Dovremmo trovare un cappello di paglia Presto Assolutamente Ciao a tutti Ciao a tutti